Se ne va un modello cittadino del buon amministrare. Se ne va un uomo profondamente innamorato della sua Pesaro. Da sabato la città piange la scomparsa di Ilaro Barbanti, 79 anni e per decenni figura centrale dell'amministrazione comunale di cui fu assessore ai lavori pubblici e due volte vice sindaco. Sia di Oriano Giovanelli, sia di Luca Cerescioli, prima di concludere il suo percorso amministrativo da presidente del Consiglio Comunale con Ricci. Barbanti si è spento in seguito a una lunga malattia e questo pomeriggio la chiesa di Cristo Re lo ha salutato per l'ultima volta, porgendo una carezza di conforto alla famiglia. Dalla moglie Tiziana ai figli Giuseppe e Lodovica, che sull'altare ha portato il commosso ricordo del papà. Una chiesa stracolma delle centinaia di persone che hanno attraversato i tanti e ramificati legami nella vita pubblica di Barbanti. Dalla simultanea presenza in chiesa degli ultimi tre sindaci, Ricci, Ceriscioli e Giovanelli, oltre a decine di esponenti della politica, alleata e rivale, che ne hanno intersecato il cammino per mezzo secolo, assieme alle tante personalità della vita sociale e comunitaria di Barbanti, sottolineata nell'omelia di Don Giovanni Paolini, che ha concelebrato la funzione assieme a Don Martin e a Don Franco Tamburini. Lo ha ricordato la chiesa di Cristo Re, lo ricorderà anche il Consiglio Comunale, come ricordato anche dal sindaco Matteo Ricci, a margine della festa di liberazione di Pesaro di sabato scorso. È stato un grande amministratore, ho fatto il vice sindaco, il presidente del Consiglio, tanti anni in Consiglio Comunale, poi davvero una persona per bene, competente, gentile, con un grande senso delle istituzioni per fare le condolianze alla sua famiglia e poi avremo altri momenti con il Consiglio Comunale nel quale lo ricorderemo.